cari amici e cari amiche di ciclo web della ciclibreria della letteratura ciclistica bentornati anzi bentrovati sono io che sono tornato dopo una settimana errabonda e beh torniamo a parlare di libri anche perché i libri sono una grande medicina e non uso questo termine in maniera casuale in questi tempi in cui il ciclismo pedalato ce lo stanno togliendo perlomeno temporaneamente speriamo per un breve lasso di tempo beh non possiamo fare nulla di meglio che rifarci insomma consolarci ampiamente con delle belle letture ciclistiche e quindi andiamo a presentare i libri di oggi di questa puntata della ciclibreria vi avevo lasciati con rialzati libro del mese di febbraio libro scritto da adriano malori con andrea schianchi edito da ediciclo editore un campione di lotta contro il destino rialzati è il volume che racconta non la biografia la storia l'intera diciamo carriera di adriano malori ex corridore da poco tempo ex ma proprio un tratto ben definito e delineato quello che va dalla sua caduta al tour de san luisi in argentina alla sua riabilitazione alla sua ripresa al suo ritorno in bicicletta e poi al ritiro definitivo e alla sua nuova vita è un libro molto intenso molto bello e che vi consiglio senz'altro anche se non siete stati tifosi di malori del malori corridore però insomma racconta una storia molto edificante dicevo qualche settimana fa e poi il nostro libro del mese e lo confermiamo per ancora per qualche giorno nell'attesa che ci arrivi il nuovo libro del mese e quindi ancora una volta sforiamo come è ormai d'abitudine sforiamo di qualche giorno nel nuovo mese il libro del mese di febbraio e anche un po il libro del mese di marzo essere ordinate vi mandiamo uno dei nostri portachiavi come questo qui ecco c'è un po di riflesso in quattro colori dai collezionateli tutti e poi alla fine vincete una t-shirt di ciclo web continuo a presentare un po di volumi di libri editi da ediciclo perché ce ne sono arrivati un bel po' recentemente come vi dicevo di questa casa editrice è veramente molto bella può essere bella una casa editrice va bene fa dei bei libri allora parto da una collana si chiama ciclopolis sono quattro volumi in realtà ce ne sarebbe anche un quinto che però è in un formato diverso quindi non ve lo presento insieme a questi perché questi sono tutti piccolini sono quattro città raccontate dal punto di vista ciclistico sono proprio dei racconti che entrano nel tessuto urbano e non solo di queste città celebri d'europa firenze firenze in quattro stagioni il titolo di paola zanonair vi faccio vedere tutti in rapida sequenza la bici sopra berlino scritto da max mauro poi il terzo è amsterdam è una farfalla di marino magliani e quindi londra on the river di michele monina che anche un celebre critico musicale avete visto tutto zazzeruto e barbuto sicuramente l'avrete visto in qualche trasmissione qualche sanremo allora perché vi consiglio questi libri io non li ho letti quindi che li consiglio a fare non li ho letti perché mi sono arrivati da poco e poi sono mancato perché però mi ispirano mi ispirano già dalla faccia da queste belle copertine colorate e disegnate e dipinte e poi perché come qualcuno di voi saprà sicuramente io sono appena reduce da una trasferta a berlino e berlino è una delle protagoniste di questi di questi volumi tra l'altro la bici sopra berlino è un riferimento chiaro ed evidente al film di Wim Wenders che infatti viene citato viene utilizzato anche come diciamo stratagemma narrativo nel volume di max mauro di queste città va bene firenze insomma tutti noi italiani conosciamo in un modo o nell'altro firenze delle altre londra è una città per me del cuore a londra ci sono stato più di una volta e anche per molto tempo e ci ho lasciato veramente il cuore e le altre due invece amsterdam e berlino da ultimo sono città per me legate a doppio filo al ciclismo perché le ho scoperte proprio grazie al ciclismo cioè amsterdam nel 2010 fu la partenza del giro d'italia io ci andai insomma avevi vita monacale come direbbe giro scognamiglio cosa che non si dovrebbe fare ad amsterdam infatti mi sono poi detto vabbè poi ci ritorno a fare quello che non ho fatto tutte quelle cose non pensate a cose insomma un po spinte cose però in generale cosa volete che si faccia e poi berlino e lo scrivevo proprio un articolo l'altro giorno nell'ultimo articolo berlino che mi è piaciuta e ci sono stato per i mondiali su pista questa è stata l'occasione quindi ringrazio il ciclismo per avermi fatto scoprire anche quest'altra grande città importante capitale e anche lì ho detto ci dovrò ritornare perché molte cose non le ho potute vedere non le ho potute fare che quando vai fuori per lavoro comunque qualcosa riesce a vedere ma molto di sfugge quindi poi ti prometti di tornarci poi si dice ci ritornerò con la famiglia magari o con gli amici e poi magari difficilmente lo fai però lo devo fare così potrò leggere il libro stavolta prima di ritornare a berlino la bici sopra berlino e avrò una guida in più per orientarmi nella capitale tedesca vi presento poi un altro volume molto particolare yoga per ciclisti scritto da lexi williamson lexi williamson è una istruttrice di yoga britannica che lavora anche con delle squadre sportive non solo di ciclismo però a quanto leggo e apprendo da questo volume lo yoga sta diventando una disciplina che aiuta molto la preparazione nel ciclismo aiuta a essere più flessibili aiuta ad avere maggiore stabilità e potenza tramite il rafforzamento del baricentro aiuta la respirazione insomma non ultimo aiuta a raggiungere una disposizione mentale più concentrata e forte che non lasci spazio a dubbi e distrazioni leggo dalla quarta di copertina yoga per ciclisti è un libro che contiene poi una moltitudine di esercizi da fare tutti distinti per categoria con foto fotografie e spiegazioni molto dettagliate molto chiare quindi è un libro che se siete curiosi di capire cosa può lo yoga fare per voi che andate in bici da amatori insomma è un libro che può fare al caso vostro yoga per ciclisti lexi williamson e di ciclo editore visto che nei giorni scorsi ho parlato molto di ciclismo su pista ho vissuto tanto ciclismo su pista mi sembra insomma doveroso leggere qualcosa del ciclismo su pista e vado a saccheggiare Beppe Conti per un ritratto dedicato al padre di alcuni dei corritori che con più simpatia ho seguito ai mondiali di Berlino e cioè i vari Yudainitta, Yuta Vakimoto e Tomohiro Fukaya velocisti del Giappone e questo è il loro padre spirituale Koichi Nakano di cui Beppe Conti scrive nell'81 a Brno Guidone Bontempi che era stato recordman del mondo la stagione precedente ai giochi di Mosca nel chilometro che aveva appena debuttato con successo tra i prof su strada battendo anche Saronni in volata aveva tentato la via della pista partecipando al torneo di velocità e Nakano andò un po' in crisi alle prese con un avversario dalle sue stesse caratteristiche che non aveva problemi a tentare volate lunghe e potenti visto che le faceva su strada così in semifinale all'alto della curva ecco il colpo maligno i due erano appaiati e vicinissimi decisi a lanciarsi al meglio e Nakano impercettibilmente con una rapidità impressionante rifilò una ginocchiata al manubrio di Bontempi non se ne accorse nessuno non c'erano ancora movioli televisivi come adesso Bontempi scivolò dall'alto della curva a velocità già elevata con un ruzzolone improvviso e si spessò la clavicola addio sogni inutili reclami dell'Italia non l'aveva visto nessuno quel colpo e via libera a Nakano verso il pocherissimo iridato Bontempi non si presentò più la stagione successiva perché ormai la strada l'aveva preso anima e corpo gli avversari di Nakano erano soprattutto australiani, canadesi e tedeschi poi ci riprovò un altro azzurro a Barcellona lì tra l'argentino Ottavio Dazzan nell'84 Dazzan impegnò parecchio Nakano in quella finalissima ma poi quasi si prese paura e raccontò che vide da vicino negli occhi del rivale l'odio e la cattiveria, la spietatezza come se l'avversario fosse davvero il nemico da far fuori in ogni maniera a costo di mettere in gioco anche la sua pelle Dazzan quasi si fece da parte e gli rimase al collo l'argento poi l'anno dopo il bronzo ma soprattutto le ossa intatte contro quel giapponese all'apparenza freddo e glaciale, cattivo e potente fulminante nello scatto che già appartiene alla leggenda della pista Beppe Conti, 100 campioni del novecento, Grafot Edizioni Grafot Edizioni